TAN 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 Qui giace la tomba di Nord Voldemort conosciuto meglio anche come Stefano Postanza Puntualità e soprattutto precisione ASSOLTAD Eh devo guardare lì o lì? Vado a urlare, vado a urlare, vado a urlare! Aspetta! Grida! Aspetta! Vai di falla! Uff! Sarei un attimo la paghetta? Si, lanciala in avanti! Vale! Ti accolta le camera? Non importa, guarda! Alla, miro! Ok, ora la tua sinistra ti va mal poi! Vedi la tipa? Stai vedendo la tipa? Ok? Vali con la tipa! Questo video con il regista più pazzo che conosco! Questo pezzo sta lasciando tutto brutto! Forza miga! No! No! Mi cade tutto il bracitino! Puoi fare un coro assurdo! Vai! Porta in alto la mano! Per rifallo! Per rifallo! Moro a tempo il bacino, sono il capitano! Uncino! E' un maicordio! Porta in alto la mano! Guarda qua, però! Segui il tuo capitano! Guarda qua! Passa avanti! Vai! Porta in alto la mano! Segui il tuo capitano! Porta in alto la mano! Sono il tuo capitano! Segui il tuo capitano! Cammino! Il tuo capitano! Ma questo è solo uno dei modi di essere incodati da Facebook! Guarda! Ma questo è uno dei soli... Ma... Ma perché? E voi? E voi? E voi dovete rimanere schiavi di questo grandissimo social network? Dove chiunque può fare i cazzi vostri! Può far sì i cazzi vostri! Oppure... Puoi uscire alla mente maniera dove potete stare fuori al sole con i vostri amici e godervi la vostra gioventù! Perchè? 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 Oppure perché... Oh! Non so! Dico perché! Non mi devo dire perché! Oppure preferite stare al sole con... non mi ricordo... Oppure preferite stare al sole con l'aria aperta... magari in spiaggia con gli uccellini che bastano... Sapore di mare! Sapore di sale! Sapore di mare! E la canzone! Vai! Quindi staccateli da Facebook! E tu andate su Youtube! Guarda! Guarda! Vai! Quindi staccatevi da Facebook! Magari quindi ogni tanto... 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 Vai! BAAA! IAAA! I3! Poi ci piano con le mani! E' vero l'altro che abbiamo pure all'inizio! Dai, cioè... Ma senti la presenza? Insieme! Colpire! E' l'altro dovevi dirlo tu! nuovo! Puta oak Svegli tale bene Comune Alle D ekspertere con 3 v증